Il gruppo di Taranto Il gruppo di Taranto Il gruppo di Taranto Il gruppo di Taranto Finito agli arresti domiciliari il 26 novembre scorso Nell'ambito dell'inchiesta Ambiente Svenduto Secondo l'accusa Liberti avrebbe preso nel marzo del 2010 Una tangente da 10.000 euro dalle mani di Girolamo Archinà Allora potente responsabile delle relazioni esterne dell'ILVA Per addomesticare la perizia Che per conto della procura di Taranto Stava svolgendo su alcuni terreni della zona industriale Contominati dalla Deossina Grazie a tutti i nostri spettatori